bene buongiorno a tutti eccoci qua primo giorno in montenegro nella ex jugoslavia oggi giro in barca un po deluso perché non cominciamo subito a camminare speriamo bene per i prossimi giorni grazie un mezzo però io considero un impegno io le foto di adesso le metto tra due mesi che sta un po' indietro poi è più cosa che devi sapere chi fa le foto le condivide no col cellulare che fai ma io non sono sincero il cellulare è un retto c'è una macchina crescita io faccio una macchina però qui le faccio la macchina si poi faccio la macchina come faccio la macchina come faccio la macchina beh i cellulari no dai io prometto meglio molte che sia guarda abbiamo un'ora si potete prendere come come dire ci vede ce ne sono guarda questo nero con i 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 la panchina io qua mi ricordo i laghi e le lagune sono alle mani e ah il lagune e le lagune come ti diciamo? non posso oh non non è fu 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.